Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, a pochi giorni dalla sua uscita in Italia siamo pronti a incontrare Samsung Galaxy A8. Sono molte le caratteristiche di cui vi potrei parlare di questo Samsung Galaxy A8 che arriverà in Italia in tre colorazioni. Una è quella che vedete nelle mie mani, Orchid Gray, una colorazione nera e poi una colorazione oro che vedremo tra qualche secondo. La caratteristica principale e più evidente è quella del display con una proporzione 18,5 noni, batteria da 3000 mAh, la fotocamera da 16 megapixel sul retro e doppia fotocamera invece nella parte frontale del telefono. Doppia fotocamera frontale che vi permette ad esempio di avere alcune funzionalità come la messa a fuoco live che abbiamo conosciuto con il Samsung Galaxy Note 8. Ma vediamo insieme le caratteristiche tecniche e vediamo da vicino come si comporta il nuovo Samsung Galaxy A8. Ecco dunque Samsung Galaxy A8, in questo caso abbiamo detto colorazione Orchid Gray, vorrei mostrarvi anche immediatamente il colore oro e perché no anche il colore nero. Queste le tre colorazioni che arriveranno il 25 di gennaio al prezzo di 529 euro. Vi ricordo tra l'altro che fino al 14 di febbraio avrete la possibilità per chi farà l'acquisto del Samsung Galaxy A8, avrà la possibilità di avere in regalo un Gear VR con il controller. Vi ricordo che il valore commerciale tra l'altro del Gear VR con il controller è di 129 euro. Quindi ottima promozione per chi compra il prodotto al suo arrivo quindi dal 25 gennaio sino al 14 di febbraio. La modalità tra l'altro di funzionamento della promozione è che ci si regherà sulla applicazione Samsung Members, si registrerà il proprio telefono e si riceverà successivamente il Gear. Caratteristiche, display Full HD Plus Super AMOLED da 5,6 pollici, un display con una razio 18,5 noni, la stessa che abbiamo visto sul Samsung Galaxy S8 e anche sul Galaxy Note 8. Tra le caratteristiche tecniche da segnalare vi mostro sulla parte posteriore del telefono l'attacco USB Type-C che è presente così come l'attacco per le cuffie nella parte inferiore. Una caratteristica importante, gli operatori avranno a disposizione un modello single SIM in cui ci sarà solo questo cassettino superiore con la SIM e la microSD. Invece sul mercato cosiddetto libero arriverà il modello con la doppia SIM che avrà anche un cassetto in questa parte del telefono dove inserire la seconda SIM. Controllo del volume o volume rocker sulla parte laterale del telefono così come da questa parte invece c'è il pulsante di accensione e l'altoparlante che viene messo in posizione laterale in modo tale che impugnando il telefono per guardare un video, vedete, non viene impedita l'emissione dell'audio. Fotocamera che ovviamente ha una parte importante. Sulla parte posteriore fotocamera da 16 megapixel con apertura 1.7, sotto la fotocamera vedete il sensore delle impronte digitali, mentre sul fronte c'è la doppia fotocamera anteriore. Vi mostro alcuni dettagli importanti. Intanto c'è la messa a fuoco live, potete decidere successivamente o anche durante lo scatto della foto quanto sfuocare lo sfondo della vostra immagine. Non solo perché avete anche la possibilità di scegliere tra una delle due fotocamere nel momento in cui andate a scattare, quindi avete uno scatto grandangolare oppure con un'apertura normale intorno ai 70 gradi. A proposito di fotocamera, vi faccio notare tra l'altro anche il dettaglio che ci sono gli adesivi tanto sulla fotocamera posteriore quanto su quella anteriore e poi l'opzione di Bixby Vision, quindi la lettura delle immagini con il supporto dell'intelligenza artificiale che vi dirà e vi darà informazioni su quello che state inquadrando in quel momento con la vostra fotocamera. Quindi caratteristica dunque 16 megapixel con apertura 1.7 sul retro e 16 e 8 megapixel con apertura per entrambi i sensori 1.9 invece sulla parte frontale. Abbiamo detto che c'è un'espansione di memoria tramite microSD, la memoria invece di base di questo telefono è di 32 giga, ci sono 4 giga di rama a bordo, il processore è un Exynos 7885. Per completare la scheda tecnica di questo telefono, la cui interfaccia è praticamente identica a quella di Galaxy S8 e di Galaxy Note 8, vi ricordo anche la batteria da 3000 mAh e il Bluetooth 5.0. Abbiamo detto sensore delle impronte digitali che sulla parte posteriore, in alternativa potete sbloccare il telefono anche utilizzando il viso. Non c'è invece il sensore per la lettura dell'iride che è invece riservato per i telefoni delle gamme più alte. C'è una certificazione IP68, il che vuol dire che potete prendere il vostro telefono, buttarlo in acqua dolce fino a un metro e mezzo per 30 minuti e una cosa importantissima è che all'interno del Galaxy A8 c'è anche la radio FM. Questo secondo me è un dettaglio non secondario. Vi ricordo tra l'altro come dettaglio invece per il software che c'è Android 7.1.1 tra le dotazioni di base, ma vi ricordo che intorno al mese di marzo arriverà invece al nuovo Android 8 Oreo. Una caratteristica da ricordare anche di questo telefono è la possibilità di avere le doppie applicazioni. La lista tra l'altro delle applicazioni che si possono sdoppiare quindi per avere doppio account è lunghissima. C'è una lista praticamente che comprende quasi tutti i social network e quasi tutte le applicazioni invece di messaggistica. C'è un dettaglio ovviamente che riguarda anche la connettività Bluetooth 5.0 quando collegate una uscita musicale verso l'esterno, quindi un altoparlante esterno, le notifiche rimangono solo sul telefonino e non vanno ad inficiare l'ascolto della musica collegata verso l'esterno. Sono tantissimi i dettagli che riguardano il Samsung Galaxy A8 che andremo poi a verificare nei prossimi giorni quando avremo modo di provare con più calma il telefono per testare l'autonomia, vedere la qualità delle immagini fotografiche, però vedete che insomma in linea di principio questo è un prodotto che richiama molto da vicino le serie più importanti. Vi ricordo 529 euro all'acquisto dal 25 di gennaio fino al 14 di febbraio in regalo c'è un Gear VR con il controller. A questo punto non vi resta altro che scegliere quale colore preferite tra i tre disponibili sul mercato. Ripeto che abbiamo il nero, l'oro e anche l'orchid grey. Ci ritroviamo nei prossimi giorni quando avremo modo di provare più approfonditamente questi prodotti. Ciao da Mr. Gadget!